Secondo risciacquo parte 2 Scusate se non ho detto una parola all'inizio del video Lo troverete nella parte 1 Lo troverete nella parte 1 perchè mi sono svegliato da un po' Quindi ho iniziato adesso Non lo so Intanto la raggio prosegue Ah, mia madre ieri mi ha detto di fare questa E mia madre mi ha detto di fare la lavatrice Questa roba si stelle ovviamente Sono due coperte Che noi usiamo per il computer Che noi ci mettiamo per la sedia per il computer Ovviamente Non abbiamo nessun animale Noi a casa non c'è niente Come potete vedere Nel c'è un gatto non cani Non c'ho mai avuto Mi lascio al video Centrifuga finale Non c'è un gatto non c'è un gatto Non c'è un gatto non c'è un gatto Centrifuga finale a 800 giri, ovviamente con un sbilanciamento, si vede da un sbilanciamento che è partita con lo sbilanciamento, vedete come si muove la guarnizione, ovviamente si ha le motore, io mi risca, apro la porta e me ne vado aiaiaiaiai, oh no 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 no, non ci siamo proprio, eh, Ciro prosegue, regà, regà, allora mi lo chiedo, ho messo il bel risparmio di tempo, che fa meno per risparmio di tempo, non sapevo che facesse questo tipo di problema, ok, non sapevo che facesse questo tipo di problema del lavaggio della centrifica, e comunque mi sembra che non l'ha presa, l'ha morbidente, forse ci vuole fare un risciacquo, che dite? e Marte a 800, 800 giri, eh, Marte a 800, 800 giri, eh, Marte è a 800, 800, se sentite male sto motore perché non so che c'è quelle spazzole un po' malandate perché non lo so cosa sia perché in molte parole la non so che è nel motore tutte le spazzole rotte perché da un bel po' che l'abbiamo sentita quando la faceva la centrifuga a mille ecco ha finito giro di centrifuga terminato bene si finisce la lavatrice e il giro è concluso si vede che se sono asciugati un po' che parlo se sono asciugati per bene no dai sto scherzando adesso dovrò controllare il cassetto della morbidente se c'è il detersivo o no scarico un attimo neanche che mi sposto io la so semmo in tante rega perché non ho investito perché io facevo un caldo poi io io facevo un caldo madonna madonna ci si è tardi aspettiamo che la lavatrice finisce ultimo giro e l'abbiamo in tante rega e l'abbiamo in tante rega e l'abbiamo in tante rega bene la lavatrice terminato ma dovrò solo vedere se la morbidente l'ha preso sì l'ha preso Ok, possiamo tagliere una cesta Io inoltre la metto sempre a posto Mi sono asquadato di prendere il cesto, vabbè no Non vale niente Se sentite questo buono color, madonna, è buonissimo E che ho usato insieme a questo con quello rosa Che è un altro fabuloso Che io ci ho mischiato insieme perché questo qua era finito E di detersivo ho usato questo Questo qui Ma è buono, ma è buonissimo questo amborbidante E questo è il contenitore, che lo mettiamo a posto Bene, spero che il video vi sia piaciuto E a presto